Enrica c'è, Enrica non c'è, insomma Enrica c'è e come? Però sta recuperando, quindi non è ancora pronta? Sì, sto recuperando, alla fine giovedì toglierò i punti, dopodiché potrò ricominciare a pieno ritmo a fare tutto, spero. Ecco appunto, hai ancora i punti, non è stata una vera operazione, però un intervento vero e proprio di ripulitura della cicatrice. È stata una pulizia e quindi adesso si spera che comunque da venerdì ricomincerò a fare tutto, naturalmente sempre con cautela, anche se nella mia indole non c'è la cautela, però... Quanto si soffre a continuare a star fermi per ragioni, insomma, ecco, non... non tue? Beh, sì, si soffre un po' perché comunque il fatto di non poter giocare, di non poter esprimersi, tante volte fa male, però penso che alla fine, quando arrivano queste cose anche brutte, diciamo, perché alla fine gli interventi e le operazioni non sono mai cose belle, Penso sempre che ci siano delle cose migliori che vengono dopo, quindi spero di giocare al più presto, anche perché io ho molta voglia di giocare. Senti, ti hanno salutato più volte anche dal Giappone, le tue compagnie della nazionale, insomma, era anche lì, no? Un dispiacere. Sì, anche lì, infatti prima, quando stavamo cantando l'inno, dicevano, eh, mi... ti aiuto a tenere il mazzo di fiori perché anche io volevo essere lì in qualche modo, quindi... Ero con voi. Senti, va bene, diamo i tempi, un mesetto ancora. No, magari domenica gioco.